Cominciamo pertanto ad analizzare questo primo paragrafo sulle norme giuridiche, quindi apriamo la diapositiva con i sottoparagrafi e vediamo che qui andremo ad approfondire questi argomenti, quindi le norme giuridiche come garanzia dell'ordine sociale, le partizioni del diritto, tenendo fin da subito presente che non ci sono molti diritti ma un solo diritto, per poi andare ad analizzare nel dettaglio la norma giuridica. Vediamo innanzitutto che le norme giuridiche sono poste a garanzia dell'ordine sociale, questo vuol dire che all'interno di una qualsiasi comunità umana non sarebbe possibile vivere civilmente, pacificamente, se non ci fossero delle regole che andassero a stabilire ciò che si può fare e ciò che non si può fare, perché in questo modo verrebbe meno la nostra garanzia in ordine per esempio al diritto di proprietà, non si saprebbe ciò che è nostro e ciò che non è nostro, non avremo delle garanzie di incolumità nemmeno a livello di persone fisiche e quindi andiamo ad aprire questo sottoparagrafo e a vedere i tre ulteriori sottoparagrafi in cui andremo a sviscerare questo argomento, quindi vedremo cosa sono le comunità umane e tratteremo poi del senso delle norme giuridiche e della distinzione del confine e talvolta dell'interazione tra sociologia e diritto. Iniziamo dunque dalle comunità umane, apriamo la diapositiva dedicata e diciamo innanzitutto che le comunità umane sono delle comunità organizzate che sono stanziate su un territorio e che non è detto però come era ai primordi dell'umanità che siano regolate da norme giuridiche. L'uomo all'inizio vive allo stato di natura nel senso che vive senza norme giuridiche, quindi non ci sono delle autorità che stabiliscono quali comportamenti si possono tenere e quali invece sono vietati con tutto il conseguente aspetto sanzionatorio e quindi vive nel più completo disordine, quindi le norme giuridiche servono proprio a far sì che all'interno delle comunità umane ci sia un ordine con cui vivere. La comunità è un insieme di individui, questi individui condividono spesso lo stesso ambiente fisico, questi individui possono stare insieme per i più svariati motivi, possono aver costituito una comunità nella quale ci sono soltanto gli individui appartenenti a un certo gruppo religioso, che parlano una certa lingua, che hanno dei certi caratteri psicosomatici, però appunto fanno una comunità e queste comunità sono appunto organizzate. L'organizzazione vuol dire che queste persone formalmente per raggiungere i propri obiettivi che da soli riuscirebbero più difficilmente a raggiungere si danno un'organizzazione, quindi si delle regole. Le comunità sono stanziate, le comunità con un'organizzazione sono stanziate su un territorio che va appunto a delimitare il confine all'interno del quale vive questa comunità, che può essere determinato da confini anche naturali, quali le montagne, dal mare, da fiumi e che comunque segna il territorio esatto, lo spazio esatto all'interno del quale vive questa comunità. Come vedremo poi il territorio è un aspetto molto importante nel momento in cui andremo a vedere quali sono le fonti del diritto e quindi quando una fonte autorizzata a emanare diritto emette diritto su quale spazio fisico, cioè su quale territorio questo diritto dovrà essere rispettato. Le comunità umane hanno anche ovviamente una cultura, una cultura che è un sistema di saperi, di opinioni, di credenze, di religioni, di costumi, di modi di fare che come vedremo spesso non hanno a che fare con il diritto, ma spesso questo loro modo di essere a livello culturale si potrebbe tradurre, come nel corso della storia molto spesso si è tradotto, anche in norme giuridiche da rispettare non più come norme religiose o come norme culturali o come regole politiche, ma appunto come norme giuridiche.